Allora, benvenuti a questo mini webinar dove ci occupiamo un po' di cose diverse. Cominciamo da Bookwidget. Allora, Bookwidget, facciamo così, usciamo da qua, ecco, perfetto. Allora, questo è Bookwidget. Bookwidget è un'applicazione molto valida, a mia conoscenza la migliore oggi disponibile, per la creazione di widget. Che cosa sono i widget? I widget sono delle mini applicazioni che possono essere inserite all'interno di e-books interattivi, all'interno di siti web, oppure possono essere utilizzate in modo indipendente attraverso la rete, come nel caso di cui ci occupiamo oggi. Bookwidget presenta un sistema di giochi didattici che possono essere utilizzati a vari livelli, sia con bambini molto piccoli che con adulti in esperienze formative di lavoro. Voi avete l'opportunità di poter utilizzare Bookwidget per due mesi gratuitamente e poi dopo il prezzo è sui 40 euro o una cosa del genere. Siccome Bookwidget consente di utilizzare questi widget anche all'interno di un'organizzazione scolastica, ovviamente potete, se la cosa vi interessa, interessare la scuola affinché sia lei ad acquistare il prodotto e poi gestirlo tramite gli insegnanti. In ogni caso vi consiglio di provare questa esperienza, qualunque sia il vostro intento, perché è un'esperienza didattica molto forte e nel caso potreste cercare applicazioni analoghe, appunto nel caso in cui magari non pensiate di utilizzare questa o non pensiate di utilizzarla in modo così assiduo. Dunque voi farete qui start for free, chiaramente io invece faccio il mio login e ci troviamo qui, nella pagina di inizio. Un attimo che chiudo la finestra. E ci troviamo qui, nella pagina di inizio. Ecco, se voi andate... Ops, sono uscito per sbaglio. Ecco, se voi cercate qui sulla sinistra l'opzione del vostro account, potete selezionare la lingua. La lingua italiana è un'acquisizione recente che è dovuta alla traduzione di un gruppo di insegnanti che hanno contribuito alla localizzazione dell'applicazione. Tra l'altro vi devo dire che questa applicazione è creata proprio da insegnanti, da un gruppo di insegnanti franco-belga-tedesco, che tra l'altro conosco. Sono ottime persone ed è un'applicazione che è stata creata 4-5 anni fa, grosso modo. Allora, ritorniamo alla pagina di inizio. Che cosa vediamo? Vediamo che ho creato 60 widget e che posso creare un widget. Però, la prima cosa che vi consiglio di fare è di esplorare questi widget. Quindi guardate qui le funzioni di supporto sulla sinistra. Qui trovate una serie di slide. Sono in lingua inglese, ma sono molto semplici perché, come vedete, presentano le schermate. Ecco, quello che dovete fare. E che vi possono essere utili. Altrimenti, ritornando alla sezione, ecco, alla sezione di inizio, potete ovviamente creare un widget con il pulsante Crea Widget. Il pulsante Crea Widget vi offre tutta una serie di opportunità che sono organizzate per sezioni. Teste verifiche, giochi, immagini video, matematica, incorpore elementi di terze parti, varie e così via. Però non ci conviene iniziare subito con la creazione da zero, ma piuttosto di vedere due cose. Vedere come è organizzato un widget già creato e come noi possiamo riferirci ai modelli già pronti. Allora, per vedere un widget già creato, noi andiamo nella sezione Widget, che è questa, che si presenta in questo modo. Alcuni widget sono stati raccolti in cartelle. Vedete, c'è la cartella Sassari e all'interno della cartella Sassari abbiamo la tombola a cui abbiamo partecipato, associa l'elemento alla sua funzione, che abbiamo visto, didattica multicanale, anche il tiramisù è l'ultimo che avete provato a sperimentare e che era compreso nel capitolo in corso del manuale. Questi sono i widget che via via sono stati creati. Ecco, per esempio. Per esempio, in queste cartelle ci sono stati raccolti dei widget sia in lingua inglese che in lingua italiana perché sono widget che ho prodotto per un lavoro internazionale di cui parleremo fra qualche giorno perché adesso entriamo nello storytelling e quindi vi spiegherò alcune cose e vi mostrerò dei lavori specifici. Notate che sulla sinistra avete una voce dal nome interessante, esempi. Allora, questa è la voce a cui io vi rimando immediatamente. Cioè, fate clic su esempi perché qui avete esattamente la schermata di creazione del widget solo che non serve per creare widget questa schermata ma per vedere di che cosa si tratta. Allora, per esempio, siccome vorrei analizzare con voi la tecnica dello split view che viene definita come lavagna divisa in lingua italiana vediamo quali sono gli esempi che ci vengono proposti. Allora, questa è la lavagna divisa poi qui abbiamo mostra con una linguettina e abbiamo tre esempi. Ogni widget presenta tre esempi al suo interno sì, da tre a quattro esempi al suo interno quindi proviamo vediamo con il primo ed ecco che si apre si apre in modalità di preview in pratica cioè quello che vedrebbe lo studente e noi abbiamo capito che questo widget presenta una funzione di divisione dello schermo da una parte abbiamo delle informazioni e un testo e dall'altra possiamo fare qualche cosa. bene, vediamo sempre un altro esempio sempre dello stesso widget questo è un esempio un po' più complesso devo cercare di diciamo entrare in questo labirinto e qui ho delle istruzioni vediamo il terzo esempio il terzo esempio è simile però ci fa vedere che all'interno della parte sinistra possiamo inserire anche un audio bene poi vediamo qualche altra cosa per esempio possiamo vedere un quiz anche se i quiz li possiamo realizzare in tanti modi ecco dunque che attraverso questa funzione di preview noi possiamo dare un'occhiata a tutti i widget che questa applicazione ci offre e così via possiamo vedere il cruciverba come il gioco di memoria il memory la mappa mentale ecco a coppia vi ricordate è quello che è un widget che avete che vi ho sottoposto qualche tempo fa ora è stato a beccare proprio uno di quelli semplici perfetto e così insomma potete esplorarli ma potete solo esplorare guardate per esempio anche queste funzioni più avanzate che ci permettono di incorporare degli elementi anche in 3D questi elementi li cercate tramite Google perché all'interno di Google non Google motore di ricerca cioè nel senso che li trovate con Google motore di ricerca ma sono proprio degli oggetti messi a disposizione da Google e che voi potete tranquillamente impiegare all'interno di un widget ci sono anche delle funzioni matematiche potete incorporare una Google Maps eccetera eccetera la cosa interessante di questa pagina ripeto siamo all'interno di esempi questa sezione la cosa interessante è che per ogni widget per esempio il flashcard prendiamo questo esempio flashcard sapete che cosa sono penso il flashcard è un sistema di memorizzazione tipicamente anglosassone viene utilizzato molto da noi non è molto impiegato un frangois qui c'è anche l'audio con la pronuncia però ecco dove volevo arrivare che avete questa funzione in alto a destra crea una copia nel mio account prendiamo proprio questo elemento facendo clic su crea una copia nel mio account noi ci troviamo con il widget pronto l'unica cosa che dobbiamo fare è sostituire i vari elementi quindi qui dovremmo cambiare il nome ci presenta l'altro frontale che cosa deve essere scritto nel lato frontale e poi nel lato posteriore naturalmente l'immagine facendo clic sull'immagine la possiamo cancellarla e trovarla e importarla e importarla anche dall'online per esempio quindi è molto semplice questo meccanismo perché ci evita così di studiare a lungo i vari widget come sono fatti così e ci permette di sviluppare diverse prove adesso torniamo alla sezione dove sono stati creati questi widget e in particolare a sassari e prendiamo il tiramisù questo esempio per docenti e insegnanti prima di tutto vediamo com'è composto dal punto di vista dello studente cioè di chi il widget lo deve poi svolgere e quindi in alto a destra trovate la funzione di anteprima la funzione di anteprima presenta il widget così come deve essere composto esaminiamolo un attimo perché ritroveremo i vari alimenti all'interno della struttura del widget ripeto che qui siamo nella modalità di preview quindi quello che lo studente vedrà naturalmente ho scelto proprio questo esempio per quale motivo perché come spiego nel manuale dove vi propongo un utilizzo inverso delle verifiche voi potete fornire ai vostri studenti gli elementi di studio nella parte sinistra questa elementi di studio che comportano audio video immagini link internet poi la spiegazione di quello che dovete fare registrazioni e così via il compito dello studente è decifrare questa parte di sinistra cioè fornite a lui le informazioni multicanali che sono necessarie affinché lui possa poi svolgere gli esercizi che vengono proposti sulla destra quindi scrivi una frase che spieghi lo scopo di questa ricetta poi il tiramisù pesa 500 grammi quindi qui devi completare la formula il cioccolato questa è una lavagna che è stata inserita solo per mostrare agli insegnanti di matematica la compatibilità con latex che è il sistema attraverso il quale si può inserire una scrittura matematica all'interno di questi widget poi metti in ordine le varie componenti poi un classico quiz poi trascina le parole nei loro riquadri il tempo di attesa completa la frase e così via vedete ci sono tanti elementi dunque che cosa fa lo studente? lo studente studia lo studente apprende perché voi avete fornito tutte le informazioni necessarie i contenuti affinché lui possa apprendere e quindi deve trovare le risposte all'interno dei documenti che gli avete dato e quindi compilarle qui all'interno normalmente questo tipo di widget viene somministrato più volte cioè lasciate l'opportunità allo studente di rifare questa verifica diverse volte controllando sempre i risultati e come vedete è molto interessante perché secondo me è la più interessante di tutte questa modalità perché vi consente cioè vi offre veramente un'ampia gamma di possibilità dal presentare ex novo un contenuto e quindi poter osservare lo studente nel momento in cui lui opera e quindi il suo processo proprio di apprendimento fino ad arrivare alla verifica invece di un apprendimento già effettuato e quindi qui verranno riportate solo alcune informazioni oppure addirittura terzo esempio voi avete affrontato un argomento in classe con il vostro studente e qui proponete un widget di approfondimento cioè di qualche cosa che non è stato studiato e che amplia però la base che avete affrontato con i vostri allievi allora come è composto questo widget adesso lo vediamo immediatamente esaminandone la struttura notate intanto che qui c'è un timer che fa scorrere un tempo il tempo ovviamente l'abbiamo stabilito noi in questo caso in 40 minuti 40 minuti sono stati giudicati come un tempo necessario per poter svolgere in comodità questo widget poi che cosa abbiamo abbiamo una macchina calcolatrice perché ci sono degli elementi matematici all'interno ovviamente si tratta di una funzione facoltativa che possiamo inserire o meno abbiamo una casella di posta qui puoi inserire il nome il tuo nome la tua mail in modo tale che arrivi direttamente alla tua casella il widget qui possiamo condividere il quiz con altre persone interessante questo questa icona perché è quella del download e ci consente di scaricare il pdf del widget stesso e poi abbiamo il cestino con il cestino guardate io faccio clic sul cestino lui ripulisce tutte le risposte che in questo caso abbiamo fatto finta di inserire e possiamo ripartire allora chiudiamo con questo pulsante esaminiamo la struttura allora la struttura comporta delle domande le domande sono relative a i diversi giochi presenti all'interno del widget quindi la parte di destra vi ricordate nella divisione dello schermo la parte di destra quindi qui c'è l'origine del tiramisù ci sono le risposte questa è la risposta esatta dobbiamo stabilire se le risposte hanno un ordine casuale se il layout è più colonne e cose di questo genere questo è il completa la frase ecco che il completa la frase vedete dobbiamo inserire tra doppie virgolette le parole che poi gli studenti devono scrivere poi abbiamo metti in ordine le frasi della ricetta quindi noi qui scriviamo la successione come deve essere organizzata quindi montare la panna aggiungere lo zucchero lavorare il mascarpone è proprio la sequenza corretta lui scompagina questa sequenza e poi lo studente la dovrà risistemare poi associa le parole ecco che noi inseriamo una una serie di termini e ogni termine viene associato a un altro quindi senza con uova per esempio oppure con sarà panna montata quindi senza uova ma con panna montata e così via poi quali elementi caratterizzano questa ricetta del tiramisù qui le risposte corrette sono diverse quindi mescoliamo delle risposte corrette ad altre sbagliate quelle corrette sono marcate sono cose che sapete perché sono comune ai diversi test scrivi una frase che spieghi lo scopo e i pregi di questa ricetta ecco che qui noi dobbiamo inserire le parole chiave che sono separate da un doppio asterisco in modo tale che il widget controlli la correttezza di quello che lo studente può scrivere e quindi assegnargli il punteggio della domanda anche se poi scappa sempre qualcosa perché ovviamente ci sono dei sinonimi che noi non prendiamo in considerazione però sono degli elementi così che ci danno delle indicazioni ma che poi è meglio che l'insegnante controlli direttamente questo vediamo cos'è questo niente un'altra domanda questo è un vero falso classico vediamo eccolo qua quindi trascina le parole nella frase di nuovo qui inserite le parole corrette all'interno di una doppia virgoletta però aggiungete i distrattori quindi queste parole che sono tra le doppie virgolette verranno mescolate a queste altre traendo un po' in inganno lo studente che dovrà scegliere le parole corrette da inserire spiega cosa significa questa immagine va bene le parole chiave poi qui avete inserito l'immagine eccola qua che è qui e che potete poi modificare e poi vediamo se c'era qualcosa d'altro di interessante ah sì questa è matematica e matematica viene organizzata in questo modo sono vi ricordate che ci sono i tre quadratini che vanno riempiti e ogni quadratino ha la sua risposta esatta attraverso la quale il widget può giudicare il risultato e poi c'è eccolo qua la compatibilità con latex quindi questa è una formula scritta in latex la scrivete attraverso un'applicazione compatibile con latex oppure direttamente qui dentro oppure la copiate e la incollate e quindi avrete poi la traduzione in linguaggio matematico poi vediamo le altre funzioni le funzioni allora abbiamo le domande che riguardano la parte di destra e poi il testo che riguarda la parte di sinistra cioè gli elementi che voi fornite ai vostri studenti e quindi qui semplicemente vi trovate con un editor un editor che comporta anche l'inserimento di elementi multimediali anche in maniera diretta per esempio se io ecco scelgo l'opzione audio posso anche registrare direttamente oppure quello che voglio dire oppure scegli il file lo posso importare perché la registrazione l'ho fatta precedentemente quindi qui inserite tutti gli elementi che volete fornire ai vostri studenti formattate il testo le solite cose e sarà la parte che vi ritrovate sulla vostra sinistra adesso siccome io ho fatto una variazione cioè sono andato a capo poi sono tornato su lui ha registrato questa variazione e quindi mi chiede di aggiornare la copia condivisa perché ovviamente questo widget si trova sui server di questa organizzazione e dunque la possiamo con l'aggiornamento poi possiamo fornire ai nostri studenti una versione aggiornata poi abbiamo titolo reporting quindi identificativo del widget noi diremo qual è il titolo e il nome del gruppo il nome del gruppo lo creiamo semplicemente così scrivendolo possiamo scrivere sassare milano quinta c terza sezione arancione quello che ci interessa lui poi grupperà automaticamente tutti i widget che hanno lo stesso identificativo quando vedremo i risultati del widget stesso poi gli diremo abilità l'invio delle risposte e questo decidete voi se per esempio date l'opportunità agli studenti di rifare il widget allora questo lo disabilitate per esempio in modo tale che lui non abbia le risposte e si eserciti diverse volte consente allo studente di inviare una sola volta anche qui vale il discorso di prima poi niente qui ci sono le mail ovviamente da inserire e la modalità d'esame la modalità d'esame è quella che stabilisce il tempo quindi voi qui l'abbiamo stabilito in 40 minuti voi stabilite il tempo che desiderate oppure disabilitate questa funzione consente il ripristino alla scadenza del timer vuol dire che quando il widget è scaduto con l'opzione cestino che avete visto prima il ragazzo potrà cancellare tutto quello che ha fatto e rifare il widget poi vediamo generale opzioni di correzione mostra le risposte corrette al termine del quiz questo lo potete abilitare o disabilitare come volete insomma qui potete stabilire un messaggio di successo per esempio ma queste poi sono cose molto semplici che potete vedere voi ecco consenti la condivisione è quella funzione che vi ho mostrato prima cioè poter spedire il widget a qualcun altro oppure consenti il download poter scaricare il download qui voi avete due funzioni includere la correzione cioè il ragazzo scarica il pdf con le correzioni al suo test oppure senza le correzioni e senza la valutazione queste sono opportunità didattiche che voi potete potete stabilire e poi domanda metti in ordine in numero questo è anche importante perché nel caso di una somministrazione in aula oppure a distanza sincrona quindi con tutti gli studenti nello stesso momento voi potete stabilire che l'ordine delle domande sia somministrati in modo casuale e che quindi la numerazione venga rifatta bene poi non c'è altro da dire perché la localizzazione se rimanessero se voi trovaste un widget per esempio che non è stato completamente tradotto adesso questo per esempio non è il caso ma voi trovereste eccolo qua per esempio invalid username allora qui voi scrivete nome utente scorretto e vi trovate questa traduzione per tutti i widget nei quali compare questa frase quindi potete controllare ecco per esempio il tuo nome no il tuo nome è giusto è già in italiano download download è fallito e va bene quindi nel caso attraverso la localizzazione potreste voi stessi trovare la traduzione appropriata il design non è niente diciamo di straordinario l'immagine di copertina lo stile per esempio orizzontale quanto deve essere grande il quadro di testo sono due elementi grafici molto semplici a questo punto voi avete un codice questo è il codice del vostro widget e lo potete condividere vediamo quali sono le opzioni di condivisione qui in alto a destra condividi condividi e la prima opzione è estremamente interessante ve la spiego subito e cioè intanto notate il mio indirizzo non è più l'indirizzo che conoscete voi ma è l'indirizzo della mia istituzione il dominio della mia scuola perché? perché la mia scuola utilizza come piattaforma Google Classroom e quindi questo widget cioè tutto il sistema di book widget è perfettamente compatibile con i domini Google scolastici quindi non con quelli personali eh attenzione ma con quelli della scuola e quindi io posso selezionare il corso uno dei diversi corsi che ho all'interno del classroom della scuola per esempio vediamo un po' questo che è un corso di prova per i docenti poi lo posso inserire anche in un'altra classe questa pure questa e vi dirò di inviarlo a Google Classroom in che modo? invia direttamente a Google Classroom oppure salva bozza in Google Classroom se lo invio direttamente in Google Classroom lui crea direttamente il compito e creando il compito verrà anche spedita la notifica agli studenti di questo compito quindi io gli dirò di creare una bozza in Google Classroom ed ecco che lui ci pensa un pochettino e dopodiché crea questa bozza che noi ritroveremo all'interno delle nostre Classroom ripeto non quelle personali ma quelle create attraverso il dominio scolastico proviamo a rifare di nuovo l'operazione di condivisione perché qui c'è scritto mostra altre opzioni di condivisione vediamole mostra i link del widget perfetto allora questo è il link che noi possiamo copiare e distribuire ma altrimenti possiamo dire mostra il codice QR e lui crea automaticamente il codice QR ormai siete diventati degli esperti in codici QR perché ve li ho mostrati diverse volte all'interno del manuale codici QR poi mostra il link dell'insegnante perché il link dell'insegnante perché noi possiamo prendere questo link e fornirlo al nostro collega il nostro collega quindi potrà partecipare alla creazione del widget oppure ne potrà fare un duplicato e utilizzarlo per proprio conto particolarmente interessante quindi questa funzione perché vi permette di avere in pochissimo tempo una quantità elevata di widget nel momento in cui la collaborazione con i vostri colleghi è attiva adesso vediamo qualche cosa invece di diverso che è la gestione del widget ok bene vediamo la gestione invece del widget che avviene attraverso la funzione live la funzione live adesso mi dice che non ci sono widget attivi a che cosa serve la funzione live serve a questo noi siamo a distanza abbiamo creato un widget per esempio un widget per associare con dei bambini di 4 o 5 anni per associare il suono a un'immagine per esempio ciliegie e quindi decidiamo di fare un gioco una specie di gara con tutti i bambini siamo a distanza siamo magari in videoconferenza diamo a tutti i bambini il link la cosa più semplice è attraverso il codice QR magari insieme ai loro genitori se non sono capaci loro puntano il loro dispositivo e si trovano immediatamente dentro il widget nel momento in cui ciascun bambino ha attivato il widget compare qui compare qui all'interno di questa schermata all'interno di questa schermata compare il nome del widget vediamo un po' eccolo qua vediamo un esempio vi compare il widget il tiramisù o quello che avete deciso di fare accoppia il sonoro alla voce e vi compare proprio questa schermata con queste funzioni che man mano si completano e quindi potete per esempio cercare fare click su un il nome di un vostro studente e vedere in tempo reale quello che sta facendo proprio lo vedete se tra l'altro voi condividete lo schermo come sto facendo io potete dare dei consigli e dire guarda che in quali elementi caratterizzano questa ricetta tu stai facendo un po' di errori fai attenzione rifletti su questo guarda quest'altro e così via cioè avete il controllo live di quello che avviene nel vostro nella vostra somministrazione sincrona cioè mentre gli studenti lavorano tutti insieme quindi sfatiamo un primo tabù cioè che non è possibile controllare un lavoro a distanza come si fa in classe non solo non è possibile ma lo posso addirittura controllare meglio che in classe perché in classe io per vedere che cosa sta facendo uno studente devo girare banco per banco mentre invece in questo modo io ho un quadro generale immediato di tutto il lavoro della classe quindi per realizzare questo tipo di attività in presenza in classe a scuola io devo avere una LIM con una dotazione telematica gli studenti possono svolgere questo widget attraverso un tablet o un computer in modo tale che io possa poi interloquire con loro sia oralmente in presenza cioè fisicamente che attraverso il sistema che vi ho mostrato adesso vi voglio far vedere come eccolo qua questo ecco ecco io qui vedete dalla sinestra sto parlando proprio con i miei studenti sto controllando quello che loro stanno facendo siamo a distanza siamo all'interno di un'attività sincrona e io ho un perfetto controllo della funzione do dei suggerimenti spiego delle cose i ragazzi chiedono intervengono perché ma perché siamo sempre nel quadro di una sentite che in sottofondo le voci perché dicevo siamo nel quadro di un'operazione che volta a sostenere l'apprendimento e non tanto a fare una verifica se voi volete utilizzare questo sistema per realizzare una verifica classica beh ovviamente controllate e poi diciamo vi comportate diversamente quindi non analizzate insieme agli studenti il lavoro che stanno facendo c'è un continuo passaggio io proietto a loro che possono vedere tutta la schermata e in questo modo io spingo molto avanti l'apprendimento uso tutta una serie di sistemi metodologie che mi consentono di sviluppare con i miei ragazzi una grande quantità di lavoro durante l'anno voi pensate che quando è iniziata questa situazione di emergenza noi ci siamo messi immediatamente al lavoro anche perché gestivamo già prima le piattaforme quindi non abbiamo perso neanche 5 minuti e al mese di aprile io ho chiuso tutta la programmazione di tutte le mie classi quinte comprese perché avevamo fatto quello che era necessario fare durante l'anno scolastico e li ho lasciati tranquillamente lavorare con i miei colleghi i quali invece hanno dovuto impiegare alcune settimane per riuscire a orientarsi all'interno delle piattaforme ovviamente li abbiamo aiutati per fare questo non avevano dimestichezza con strumenti di questo genere quindi per loro è stato molto complesso e molto faticoso mentre per noi questo periodo è stata una passeggiata che ha consentito ai miei studenti di completare la loro preparazione ma non solo perché noi abbiamo dimestichezza con questi strumenti ma perché io utilizzo delle metodologie didattiche radicalmente diverse rispetto a quelle istituzionali che provocano dei risultati veramente straordinari vi dico solo questo io insegno in un istituto professionale quindi è un istituto tra l'altro molto complicato quindi i miei studenti hanno grosse difficoltà io prendo le ultime classi normalmente e pensate che in quarta quinta superiore hanno delle gravissime difficoltà nella scrittura nell'esposizione narale perfino nella comprensione di un testo e non hanno mai letto racconti romanzi cose di questo genere invece con i sistemi che applico io loro arrivano a leggere integralmente 6-7 romanzi durante l'anno a studiare circa una ventina di autori con i loro testi direttamente che spaziano dalla letteratura internazionale italiana a quella internazionale contemporanea eccetera fondamentalmente sono tutte metodologie volte a stimolare l'apprendimento e non a verificare diciamo come dei carabinieri quello che è stato appreso le verifiche ovviamente ci sono ma è quello che vi spiego nel manuale cioè attraverso un controllo del processo e non attraverso attraverso diciamo un controllo nozionistico di ciò che tecnicamente potresti avere appreso quindi loro si appassionano e la passione è naturalmente un motore straordinario adesso vediamo in 5 minuti invece come possiamo un pochettino simulare la stessa cosa con cioè la stessa cosa insomma più o meno utilizzando Google Moduli che cosa possiamo fare allora creiamo un modulo vuoto questo penso che tutti voi lo sappiate fare e non abbiamo la possibilità di creare uno split view però ci possiamo avvicinare nel senso che prima di tutto possiamo inserire un'immagine prendiamone una qualsiasi qua Google ricerca immagine cerchiamo un mare viene fuori il cavallo perfetto eccolo qua abbiamo un'immagine qui possiamo inserire anche in questo titolo una lunga descrizione dell'immagine cioè questo testo non usatelo per un titolo ma per inserire proprio una descrizione dell'immagine in modo tale che voi presentate un elemento con una sua descrizione questo lo togliamo non ci interessa poi andiamo avanti vediamo che cosa possiamo fare possiamo inserire un filmato non so che cosa vado a prendere ma non ha nessuna importanza e anche qui scriviamo una spiegazione ah sopra sopra il cavallo dobbiamo inserire un titolo il titolo ecco lo collochiamo così e qui sarà le tue informazioni che corrisponde alla parte di sinistra in book widget poi possiamo ovviamente inserire anche un testo non questo eccolo qua possiamo definire inserire un testo per esempio il testo di un racconto d'accordo e qui sotto dove c'è la descrizione che è facoltativa potete inserire veramente un lungo testo per esempio quindi voi suddividete in modo verticale quindi non più orizzontale in due fate uno split screen praticamente tagliando in due lo scorrimento verticale del testo poi qui inserite un titolo e il titolo sarà per esempio esercitazioni adesso guardate cosa potete fare con esercitazioni inseriamo ovviamente una domanda come la chiama lui per esempio una domanda non so multipla paragrafo qualsiasi cosa scelta multipla questa sarà la risposta a questa sarà la risposta b d'accordo ma a ogni risposta e qui scriverete il testo della domanda a ogni risposta voi avete almeno la possibilità di inserire un'immagine quindi vediamo che cosa succede ho scritto cavallo pensando che venisse fuori in mare invece ho avuto proprio il cavallo poi inseriamo un'altra immagine qua quindi agganciamo le immagini alle risposte cioè sì alle risposte esatto ecco e andiamo avanti così non abbiamo ovviamente la funzionalità di controllo che ci permette BookWidget non possiamo inserire cruciverba frasi da completare eccetera eccetera però abbiamo un minimo di elementi sui quali lavorare specialmente per chi di voi opera in istituzioni scolastiche che hanno adottato la piattaforma Google come strumento di didattica online poi abbiamo le risposte penso che lo sappiate fare questo qui create il modulo di Excel con le risposte prima abbiate l'accortezza di dare un titolo a questo a questo modulo e quindi lo chiamiamo semplicemente prova sassari così poi sarà per me facile rintracciarlo e cancellarlo e quindi risposte create il foglio di calcolo avrà la stessa l'intestazione benissimo e poi qui facendo clic voi vi ritroverete con tutte le risposte quindi le potrete poi esaminare ed eventualmente le potrete anche condividere condividere con i vostri colleghi insomma le persone con cui operate o con gli studenti stessi per poter esaminare insieme lo stato delle risposte molto importante vediamo l'anteprima cioè come si presenta adesso questo modulo e il modulo si presenta in questo modo vedete qui avrete naturalmente l'opzione di scelta ecco se se qui voi inserite un filmatino quindi create non potete inserire un elemento solo audio ma dovete inserire qualche cosa in youtube certo è più complesso voi dovreste crearvi un vostro canale youtube e registrare dei piccoli filmatini con la domanda no quale di queste due immagini è un mulo allora testo della domanda qui lo lascerete in bianco o scriverete solo un punto proprio il punto della punteggiatura in modo che non si veda niente e poi il ragazzino può ascoltare e scegliere la risposta insomma sono dei trucchetti che servono per hoc quindi questo grosso modo è quello che vi volevo spiegare invece diamo buttiamo l'occhio su google site perché ho visto che siete molto interessati a google site e tanti di voi hanno operato per creare con successo il proprio sito per raccontare la passione allora questa è la prova di sommare il titolo la pagina inserite il titolo la pagina e poi vi trovate con uno spazio bianco allora che cos'è questa pagina prendete nota questa pagina si chiama landing page la pagina di atterraggio cioè la pagina dove noi vogliamo convogliare i nostri studenti dunque questo sistema è particolarmente interessante perché possiamo dare una veste grafica e dunque possiamo creare l'ambiente a un sistema magari a una piattaforma come google classroom che non ha una veste grafica a differenza di moodle per esempio avete visto come siamo riusciti ad allestire l'ambiente di elicona bene non possiamo fare la stessa cosa con altre piattaforme per esempio con we school piuttosto che con google classroom allora che cosa faremo noi allestiremo sempre la piattaforma cioè creeremo la nostra classe in google classroom piuttosto che in we school eccetera eccetera poi prenderemo i link dei vari ambienti e li collocheremo su questa pagina in questo modo scelgo qui il layout della pagina per esempio questo che presenta tre immagini e poi un testo e un link e quindi qui mi chiede di inserire non lo so diciamo che abbiamo delle immagini oppure possiamo caricare anche delle immagini o le carichiamo o le inseriamo quindi qua inseriamo un'immagine e poi qui inseriremo il collegamento per esempio diciamo a non lo so la biblioteca delle video lezioni allora cosa stiamo facendo stiamo creando uno spazio fittizio perché è solo grafico che rimanda a un altro spazio che è reale concreto e che è quello che conterrà tutte le nostre video lezioni può essere un canale di youtube può essere uno spazio definito all'interno di classroom di we school eccetera eccetera ecco e qui inserirò scriverò così link doppio clic e poi con questo pulsantino con questo pulsantino ecco ho inserito un link quindi facendo clic sarò rimandato direttamente alla pagina un'immagine di presentazione un testo di presentazione e via via costruisco il mio ambiente semplicissimo poi aggiungo altre tre cose eccetera e non creo delle sottopagine è il modo più semplice cioè creo un sistema scorrimento per creare delle sottopagine devo utilizzare un'altra funzione qui che è quella di pagina allora devo pensare prima allo schema che voglio creare allora voglio creare non lo so tre pagine quindi una pagina che sarà non lo so quella delle video lezioni che chiameremo poi biblioteca in un altro modo poi creerò un'altra pagina che sarà quella non lo so delle risorse libri materiali eccetera eccetera poi creerò una pagina dei giochi cioè creo delle categorie vedete che lui ogni volta ha creato una pagina facendo clic io cambio e poi ritorno al sistema di prima e quindi popolo le pagine con la grafica che mi interessa e intanto il menu lo trovo qua in alto posso disporre il menu anche in un altro modo per esempio qui di fianco insomma ho varie opzioni che poi potrete vedere potete inserire non so un carosello di immagini per esempio quindi inserite delle immagini vi preparate le immagini fotografie eccetera e poi attraverso la funzione carosello di immagini ecco che potete disporre sulla pagina desiderata della funzione di scorrimento delle immagini il carosello è questo una mappa calendario documenti vari presentazioni che realizzate insomma attraverso questo espediente voi create facilmente un un ambiente fittizio perché poi in realtà tutto quello che voi avete si trova in altri posti ma lo studente avrà la sensazione di essere all'interno appunto di un ambiente infine con la funzione temi voi avete alcune opportunità per modificare il layout grafico del vostro lavoro questo per quanto riguarda la creazione di un ambiente perché e qui concludiamo il webinar e quindi smetto anche di condividere lo schermo perché perché fate grande attenzione da oggi inizia un capitolo di straordinaria importanza ci siamo occupati di metodologie didattiche fino adesso abbiamo visto anche alcune applicazioni alcune modalità d'uso di una serie di strumenti ma oggi da oggi e fino alla fine del webinar cioè del corso ci occupiamo di storytelling in diversi in diversi contesti quindi video audio comics e così via ciao 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 ciao